Scotton L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Infatti tutti i dipendenti indossano mascherine e guanti ove necessario. L'informazione precisa sulle modalità di comportamento nei luoghi di lavoro attraverso la segnaletica appositamente installata. La sanificazione degli ambienti. Ogni dipendente provvede a sanificare la propria postazione lavorativa ad inizio e fine turno. Lavoriamo in sicurezza e con il sorriso, consapevoli che seguendo le direttive imposte da questo periodo contingente e con l'impegno che da sempre ci contraddistingue, supereremo questi mesi complicati.